Oggi è stato rilasciato ufficialmente, dopo un lunghissimo sviluppo partito nel 2014, Java 9 ed è pieno di nuove funzioni ed ottimizzazioni. Comunque sono KikoDB00 e in questo video andremo a scoprirle tutte. Prima che cominci il video vero e proprio, metterò in sovraimpressione e in descrizione i principali argomenti di cui tratterò e il relativo tempo nel video per poter saltare direttamente la parte che più vi interessa. Iniziamo con le maggiori modifiche che ho preso dal changelog disponibile presso il sito di Oracle. Se siete curiosi di leggere le maggiori modifiche, basta cliccare nell'angolo in alto a destra. La novità più importante è il fatto che adesso Java permetterà di creare dei moduli, che sono una collezione di dati e codice, e ciò permetterà di ottenere degli applicativi più leggeri e più veloci all'avvio, in quanto non verranno caricati interamente le varie classi, ma solamente i componenti strettamente necessari. Lo scopo di fare ciò è di creare un applicativo in modo modulare e accessibile, o facile da usare, in modo che gli esibuatori siano in grado di creare e mantenere le proprie librerie, framework e applicazioni più facilmente. Inoltre deve essere scalabile, in modo che possa essere utilizzato per poter modularizzare Java stesso. In questo modo possiamo fare in modo che sia necessario dichiarare in modo esplicito le varie dipendenze, e inoltre ossificare da subito quali parti di codice sono accessibili da altri componenti e quali invece rimangono privati. È stato ridotto del 50% lo spazio utilizzato dall'oggetto string. Per fare ciò viene automaticamente scelto in base al contenuto se codificare i caratteri in utf 16, che occuperebbe due byte per carattere, o in latin 1, che occupa solamente un byte per carattere. Ad ogni modo si può disabilitare questa funzione tramite il comando jvm-xx2.-compactstrings. Una funzione parecchio utile per i principianti è stata l'aggiunta di jshell, che rende Java interattivo. In questo modo è possibile scrivere ed eseguire degli snippets, brevi spezzoni di codice che servono per eseguire una determinata operazione. Questo potrebbe essere utile per testare nuove librerie. È stato aggiunto il supporto per Unicode 8, che permette di scrivere 10.555 nuovi caratteri. Java 8 supportava fino all'Unicode 6.2.0. È possibile compilare del codice per una versione precedente di Java a piacimento, utilizzando alcuni parametri in Java C. È stato aggiunto un linker, che serve per assemblare e ottimizzare dei moduli e le loro dipendenze. La performance di alcune funzioni di sicurezza, come RSA, è stata elevata fino al 50%, è stato aggiunto il supporto per i metodi di hash e SHA-3. Inoltre sono stati rimossi diversi parametri di esecuzione, considerati ormai obsoleti. Anche un tool che ho trovato particolarmente utile, ovvero Visual VM, che serviva per ottenere delle informazioni su un processo in Java, come ad esempio l'utilizzo di CPU, di RAM e i thread attivi, non è più incluso insieme a Java, ma è diventato un programma a parte disponibile a link in alto a destra. Ci sono altri cambiamenti che considero minori, ma per elencarli tutti mi ci sarebbero volute ore, quindi direi di passare ai benchmark. I benchmark sono stati eseguiti sull'installazione pulita di Ubuntu 17.04 a 64-bit. Il computer utilizzato è un Intel Core 2 Duo P8700 a velocità di stock, 4 GB di RAM DDR2 con un clock di 2 GHz, e le stelle operative è installato su un SSD Now 300 della Kingston. Java 8 e Java 9 sono stati installati dai repositori ufficiali tramite i pacchetti Oracle Java 8 Installer e Oracle Java 9 Installer, e prima dell'aggiornamento al nuovo Java l'installazione precedente è stata completamente rimossa. Inoltre una volta passati a Java 9 tutti i sorgenti sono stati ricompilati con il nuovo compilatore. Per ogni elemento ho misurato la velocità delle esecuzioni in nanosecondi, e tutti i risultati ai test sono il risultato della media dell'esecuzione dello stesso codice per 5 volte. Per cominciare ho deciso di testare il riempimento di un array di interi di un milione di elementi, con valori da 0 a 1000, ed è emerso che il nuovo Java 9 è più lento del 12% rispetto alla versione precedente. Comunque per proseguire ho inserito dei valori casuali compresi fra 0 e 100 nell'array creato in precedenza. Qui nonostante Java 8 abbia avuto la meglio, lo stacco è inferiore all'1%. Dopo ho deciso di testare la velocità della classe string, prendendo i primi 100.000 valori del pi greco e inserendoli in una stringa, per poi dividerla a coppie di due, inserendo i risultati in un array di interi. Inaspettatamente Java 8 ha impiegato l'1,5% in meno rispetto al nuovo arrivato. In seguito ho ordinato l'array contenente il pi greco a coppie, usando alcuni metodi di sorting, quali il bubble sort, il selection sort e l'insertion sort. E qui si iniziano a notare dei miglioramenti. Per il bubble sort abbiamo un miglioramento di circa l'1%, mentre per il selection sort abbiamo un miglioramento di bene il 6,5%. L'insertion sort guadagna neanche l'1% di tempo in meno. Come ultimo test ho deciso di criptare ogni singolo elemento dell'array contenente i valori del pi greco con il metodo di criptografia RSA, per poi decriptarlo nuovamente. Il tempo di criptazione è aumentato di bene il 7%, però nella decriptazione il tempo è stato ridotto del 59%, ancora meglio di quanto riportato nel changelog. Osservando i dati posso dedurre che la performance sia molto simile fra le due versioni, perché non ho eseguito alcuna ottimizzazione. Questo per ottenere una misurazione il più neutrale possibile. A mio parere il nuovo Java sarà una svolta, sia per la modulazione sia per la JShell, che come già detto semplificherà in modo non indifferente lo sviluppo delle future applicazioni. Se questo video ti è stato utile per capire qualcosa di più interessante riguardo al nuovissimo Java 9, lascia un mi piace, altrimenti lascia un non mi piace. Inoltre se vuoi suggerirmi altri test ad eseguire, non esitare a lasciare un commento.